Ciao a tutti, benvenuti su Tech Gaming In questo video vi spiegherò come sbloccare il negozio di Volpolo E naturalmente come entrare nel negozio di Volpolo Come potete vedere vende dipinti e oggetti di vario tipo Statue e tutto ciò che vi occorre per ampliare il museo Come accedere al negozio? Ma soprattutto dove si trova questo negozio? Il negozio è ambulante, si trova su un'imbarcazione che non compare tutti i giorni A differenza del negozio di Mirko e Marco e delle sorelle a cui filo Come potete vedere il negozio di Volpolo è una nave che sta praticamente a nord dell'isola E che diciamo si apre ai visitatori, a coloro che vogliono fare acquisti solo in determinate occasioni O meglio, solo se si fa determinate cose La prima cosa da fare è quella di andare in piazza dopo l'aggiornamento Quindi nella piazza principale E di parlare con Volpolo e di acquistare il primo dipinto Dopodiché andare al museo di Blatero, donare il dipinto e attendere due giorni In questo modo diciamo avete nel museo una nuova sezione dedicata ai dipinti Quindi adesso ve la mostro Qui E una volta che avete sbloccato quindi la sezione dedicata ai dipinti e alle opere d'arte nel museo Che potete visionare nella parte alta Per sbloccare il negozio o meglio per entrare nel negozio di Volpolo Non dovrete fare altro che recuperarlo in giro Adesso vi mostro il primo dipinto Ecco la gioconda Quindi il primo dipinto che vi vende Volpolo Per entrare nel suo negozio dovrete cercare Volpolo in giro per l'isola Parlargli la prima volta e vi darà l'accesso al suo negozio Quindi ricapitolando Una volta che lanciate il gioco dopo l'aggiornamento Dovete parlare con Volpolo nella piazza e acquistare il suo dipinto Nel mio caso è la gioconda Non so se il vostro dipinto cambia Una volta che avete acquistato il dipinto Andate al museo, lo donate a Blatero e attendete due giorni Dopodiché andate a nord della vostra isola Se c'è l'imbarcazione allora dovete esplorare l'isola in cerca di Volpolo Parlate con lui per poter entrare nel suo negozio Se la nave non c'è allora dovete attendere uno o due giorni Dopodiché tornare nuovamente qui Se la nave c'è andate in cerca di Volpolo per poter sbloccare l'accesso alla nave Ovviamente è una cosa che va fatta solo una volta Dopodiché ogni volta che comparirà la nave di Volpolo all'interno del gioco Potrete entrare e spendere le stelline per acquistare i dipinti, le statue ed altri oggetti Da donare al museo di Blatero Oppure da esporre nella vostra abitazione Dopodiché ogni volta che è andato in cerca di Volpolo all'interno del gioco